Nonostante il meteo inclemente, è stata un successo la prima delle giornate di pulizia delle sponde del lago di Arignano nell'ambito del progetto Isola, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e coordinato dalla Città Metropolitana di Torino. Il Plugging Lento, che consiste nel passeggiare raccogliendo rifiuti, è una delle iniziative di sensibilizzazione della popolazione locale e degli escursionisti previste dal progetto Isola. Sono stati una cinquantina i semplici cittadini, gli amministratori locali, i volontari delle associazioni e del Comitato Salvaguardia del Lago impegnati a raccogliere i rifiuti e a riempire una trentina di sacchi contenenti bottiglie di vetro, lattine, scatolette di alluminio, sacchetti di plastica, imballaggi di cartone e tantissimi fazzoletti di carta usati.